tesoro sono a casa oh dove sei? sono di qua devo parlarti ecco mi sedo perché quando dici così è meglio che mi sedo no ma è una cosa seria oh porca cos'è quella cosa davanti alla fine la vedi? ma più avanti più avanti più avanti via via più veloce la luce via